Ospite qui da noi questa sera Fabio Giovinazzo, autore e regista del film Il Ponte della Vergogna. Grazie innanzitutto per essere qui con noi. Il film Il Ponte della Vergogna narra del crollo del ponte Morandi. Intanto ci racconti un po' di novità, noi l'abbiamo ospitata quando c'è stato il lancio del suo film. Intanto com'è andata e quali sono i prossimi appuntamenti? Il film è stato proiettato a Roma presso il Cinema Teatro Flavio e poi all'Accademia dei Belli Arti di Bologna all'interno di un festival legato al cinema sperimentale. Quella che ci sarà a breve sarà l'anteprima genovese. Si tratta di un film, come già ho avuto modo di raccontare, di dire, che è un esperimento. L'opera può essere vista e analizzata come un vivo sperimento immaginifico dove esistono componenti molto ben diversificati che coesistono. Mi spiego meglio. L'episodio della fiction può perdersi nell'elemento che è legato a un discorso profumettistico, così come le parole del documentario possono trovare accoglimento attraverso il linguaggio della videoarte. La musica profuma di senso elettronico e la grafica fa il resto. È importante dire che non c'è nessun fattore legato a quel morboso sensazionalismo che fin dal primo giorno è stato dato in pasto al pubblico con un ritmo anche quasi ossessivo. Non c'è presente il dolore nella sua forma più esplicita e terribile. Da questo punto di vista ho lavorato molto sul simbolismo e sul dare un messaggio, sul suggerire un messaggio che rimane comunque forte, grave e importante. L'approccio un po' più intimista è la sua cifra, in questo senso la cifra del suo cinema? Esatto, sì. Comunque nei miei film mi rispecchio molto. Quindi quello che realizzo lo realizzo guardando dentro me stesso, elaboro la realtà che mi circonda e poi la consegno alle immagini. Quindi sono visioni molto intime e molto personali. Quindi è un documentario sperimentale. Il Ponte della Vergogna si chiama così, abbinare queste due parole, Ponte e Vergogna fa un po' pensare. C'è anche un giudizio, una valutazione dell'intera vicenda in questo suo lungometraggio? Mi limito a raccontare quello che è stato e poi sarà lo spettatore a farsi alla fine un'idea di come sono date le cose. È chiaro che il Ponte Morandi era un simbolo di Genova. Genova era conosciuta anche all'estero attraverso anche questa costruzione. Quindi è chiaro che comunque c'è un legame molto forte. Nasce tutto comunque da una mia visione molto personale. Venerdì, venerdì sera l'appuntamento, lanciamolo al Teatro dell'Ortica, è la prima genovese praticamente. Il Teatro dell'Ortica, il 17 gennaio, questo venerdì è l'ora e 21, ed è un'occasione importante anche per via del luogo. Il Teatro dell'Ortica è un spazio che dà molto accoglimento sia all'arte che al sociale. E quindi mi sembra giusto ringraziare Mirko Bonomi, Anna Solauro e tutto il Teatro dell'Ortica per avermi dato questa opportunità e questa specialità, appunto proprio per l'anteprima genovese. Vi sono ancora progetti futuri che riguardano per esempio questo tema o comunque diciamo in generale la sua filmografia? Adesso sto lavorando sempre a un film scritto da me che è legato alla figura di Gesù e poi a un altro film, sempre scritto da me, che sarà il mio primo a livello proprio di fiction che è ispirato a Licea del Pesino e della Meraviglia. Infine, che tipo di riscontri ha avuto tra il suo pubblico? È curioso sapere che tipo di reazione hanno avuto il suo film. Sia a Roma che a Bologna hanno apprezzato molto questa fusione di linguaggi diversi. Quindi passare dal documentario, poi alla fiction, al fumetto e alla musica che comunque riusciva bene a amalgamare il tutto. Quindi è stato un esperimento interessante e mi sono soddisfatto. Venerdì 17 gennaio l'appuntamento al Teatro dell'Ortica, la prima genovese di Il Ponte della Vergogna di Fabio Giovinazzo, autore e regista appunto di questo film. Grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie.